Buonasera, benvenuti, buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, sono la dottoressa Floriana Esposito, responsabile della Parmeventi, che ha organizzato questo evento formativo grazie all'input ricevuto dalla dottoressa Lucilla Ricottini, che presenterò a breve. Presento al volo la Parmeventi, che è una realtà che si occupa di organizzare convegni e congressi sia in modalità residenziale che a distanza, ed è specializzata nell'ambito del settore medico-scientifico. Innanzitutto ci tengo a ringraziare sinceramente gli illustri ospiti di questa serata e tutti i partecipanti che sono collegati in diretta con noi. È mio compito darvi un'informazione tecnica su come si svolgerà la serata e introdurrà e modererà la dottoressa Lucilla Ricottini, pediatra e neonatologa che lavora in ambito romano, con la quale abbiamo condiviso numerose esperienze formative, perché è stata la nostra direttrice scientifica. Seguirà la relazione e l'intervento del professor Francesco Macri e subito dopo del professor Attilio Boner. Le due relazioni saranno intervallate da uno spazio dedicato alla possibilità che viene data a voi partecipanti di porre delle domande di quesiti ai nostri esperti o di creare un momento di discussione. I partecipanti possono rivolgere i loro quesiti attraverso lo strumento alzata di mano o scrivendo direttamente le domande nella nostra chat che verranno lette dalla dottoressa Ricottini. Questi due strumenti li trovate sul vostro pannello di controllo. Non vi rubo altro tempo, pertanto ringraziandovi nuovamente do inizio ai lavori e passo la parola alla collega Lucilla Ricottini. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera e ringrazio innanzitutto la Farm Eventi che così generosamente ha messo a disposizione la piattaforma per tutti noi e si è fatta carico della parte organizzativa. Ringrazio i partecipanti e ringrazio i due illustri ospiti, il professor Attilio Bonere e il professor Francesco Magrini. Io vorrei introdurre rapidamente il webinar che vi vede così numerosi nel partecipare benché sia poi stato promosso pochissimi giorni fa. Era estate, era poche settimane fa, parlavo con un collega pediatra di base che mi segnalava come stesse crescendo la preoccupazione nel nostro ambito e nel nostro mondo relativamente alle scelte da fare nell'accoglienza, nella gestione, nella decisione anche delle strategie comportamentali nei confronti dei bambini con raffreddore, linee di febbre, era da chiedere il tampone, non era da chiedere. Insomma, allora non erano ancora uscite le linee guida che ora abbiamo a disposizione dal 21 agosto dell'Istituto di Sanità, l'Istituto Superi Sanità e del Ministero della Salute con le indicazioni proprio operative nei casi di covid o di sospetti focolai. Linee guida importanti che però non hanno fatto scomparire del tutto i dubbi e le incertezze sul come approcciare i casi dubbi, quali considerare sicuramente casi da tenere sotto sott'occhio per i quali richiedere il tampone, quelli nei quali invece si può attendere. Insomma, ogni pediatra sta risolvendo in un modo personale l'approccio e devo dire che proprio due giorni fa mi ha colpito un articolo uscito su un quotidiano romano che segnala come i genitori siano preoccupatissimi perché la richiesta dei tamponi sembra per loro eccessiva. Quindi si parlerà molto dell'approccio, le cose si complicheranno ancora di più quando tra poco inizieranno le patologie invernali. Ho creduto e ho coinvolto quindi sia i professori che hanno risposto prontamente all'invito con grande generosità, ripeto, sono veramente grata per questa adesione e anche la farm eventi per poterne discutere tutti insieme, per far sì che i saperi condivisi di chi ha forse anche più esperienza specifica sicuramente nel campo possa portare anche a una condivisione di saper fare, uno spazio dove possiamo scambiarci esperienze e dal quale mi immagino andremo via sicuramente con le idee tutti più chiare e magari anche con una capacità maggiore di costruirci la nostra griglia personale di casi e poter quindi contribuire ancora di più a quella che è la crescita dell'esperienza comune. Non è un caso che il documento, lo leggo letteralmente, che ha inviato l'Istituto Superiore di Sanità chiude dicendo non è al momento possibile sviluppare modelli previsionali solidi sull'effetto delle diverse strategie di intervento. Io non mi immagino che escano oggi da qui questi modelli così solidi ma che sicuramente ci possiamo chiarire le idee, possiamo avere un contributo importante e possiamo magari contribuire anche noi anche attraverso scambi successivi oltre che in data odierna per formare queste griglie per contribuire appunto ad aumentare le conoscenze anche relazionali su come gestire l'approccio alle famiglie, ai bambini e ai colleghi stessi. Vi auguro un buon lavoro e lascio la parola al professor Francesco Macri dell'Università di Roma, Pediatra Allergologo, che ci presenterà una relazione, buonasera Francesco, dal titolo Quadri 15 da Covid-19 in pediatria. Grazie Lucilla, grazie per questa presentazione. Sì, certo, cercheremo di rispettare gli obiettivi, di raggiungere gli obiettivi, io e Attilio, per fare un po' di chiarezza. Diciamo che ci sono alcuni aspetti che necessariamente devo illustrarvi, anche se ne avete sentito parlare decine di volte, ma chi è esperto in comunicazione sa che nel rapporto tra chi parla e chi ascolta c'è sempre necessaria una prima parte che potrebbe anche sembrare a volte così inutile, prima di arrivare alla parte interessante e poi prima di arrivare poi alla fine del colloquio. Questa prima parte, che potrebbe sembrare inutile, è indispensabile. Se non c'è questa prima parte, la seconda non funzionerà. E quindi sentitevi anche queste cose che potrete considerare forse inutili. Stiamo parlando di epidemia, quindi è bene sapere cos'è un'epidemia. Epidemia è una situazione in cui una specifica malattia si presenta in un modo superiore all'atteso. Si può calcolare l'indice epidemico mettendo al numeratore i casi presenti in una settimana e al denominatore la mediana dei casi del quinquennio precedente e se questa cifra ha ottenuto da superiore 1 e 25 si parla di epidemia. E poi nell'ambito dell'epidemia ci sono alcuni concetti importanti che sono collegati all'indice di contagiosità, il famoso R con 0 per intenderci, per cui se questo indice è inferiore a 1 l'epidemia, come tutti ci occupiamo, si esaurirà. Se è uguale a 1 continuerà a ritmo costante e si superirà a 1 invece aumenta in modo esponenziale. Abbiamo vissuto la parte con l'R superiore a 1 all'inizio e poi conoscete tutti quello che è successo. Adesso stiamo oscillando. Se l'epidemia riguarda più continenti si parla di pandemia. Noi in questo momento siamo nell'endemia, cioè c'è una malattia costantemente presente all'interno di una popolazione. Fortunatamente non abbiamo più gli atteggiamenti di morte agli untori come durante l'epidemia della peste del 1630. Però comunque quello che viene in qualche modo previsto per i soggetti affetti non è certo piacevole, come quello che succede per i nostri pazienti o per i bambini che hanno avuto la diagnosi. Noi oggi conosciamo 6 coronavirus e ne abbiamo aggiunto attualmente il SARS-CoV-2. Quindi questa epidemia ha mostrato il settimo coronavirus. Nell'elenco vedete i primi due sono alfa coronavirus, poi gli altri quattro sono beta coronavirus, quelle recenti sono la MERS-CoV e la SARS-CoV nel 2012 e nel 2003. Sappiamo che il passaggio del coronavirus all'uomo è legato al pipistrello. Qualcosa sulla clinica. E' importante verificare come in effetti il passaggio dei sintomi è rapidissimo. Questa è una sintesi fatta da Matricardi. In realtà la fase di incubazione dura mediamente 5-6 giorni. Poi si arriva ai sintomi respiratori e i sintomi respiratori possono restare come sintomi delle alte vie aeree, e quindi diciamo banali, oppure evolvere in modo negativo. E questo succede dopo circa 8 giorni. Se avviene la polmonite, ci sono poi due possibilità, i sintomi si esauriscono lì, oppure dopo un giorno, già dopo un giorno si può passare alla sindrome respiratoria acuta. Dopo un altro giorno, se le cose non vanno, si passa alla ventilazione assistita, e dopo altri 4 giorni, se le cose non vanno, si arriva all'incubazione. E da lì a poco c'è l'esito finale, che può essere favorevole con la guarigione oppure con il decesso. Nel bambino, l'andamento può essere questo. Possiamo avere forme asintomatiche, possiamo avere forme in cui abbiamo sintomi a carico delle alte vie aeree, oppure abbiamo le polmonite, che possono essere in forma lieve, oppure in forma grave, quando si verificano questi parametri, cioè l'aumento della frequenza respiratoria, la riduzione della saturazione di ossigeno al di sotto del valore limite, segni di ipossia, fino ad arrivare anche a disturbi dello stato di coscienza, a convulsioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se uno di questi sintomi, di questi 9 sintomi, si verifica, siamo nell'ambito di una forma grave. Oltre ai sintomi respiratori, è la febbre che dura per più di 4-5 giorni, una letargia, quindi un disturbo dello stato di coscienza, alterazioni dei valori enzimatici, l'acidosi, l'acidosi importante, alterazioni significative delle immagini radiologiche, l'età inferiore a 3 mesi, complicanze extra-pulmonari, oppure coinfezioni con altri agenti virali o batterici. La sindrome acuta respiratoria è stata definita nell'adulto, la definizione di Berlino è qui riportata, sulla base di 4 parametri, che sono i tempi di insorgenza, le caratteristiche delle immagini radiologiche, la presenza di edemi, e poi i parametri legati all'insufficienza respiratoria. Nel bambino la definizione è stata in qualche modo adattata, ma non ci sono grosse differenze, se non la necessità di escludere alcune cause extra-virali, come la presenza di malattie cianutizzanti, oppure malattie croniche polmonari, oppure disfunzione del ventricolo sinistro. È interessante questo dato, in cui si riporta praticamente l'andamento dei parametri anticorpali durante l'infezione. Vedete che le IgM compaiono intorno al settimo-ottavo giorno, durano una decina di giorni, le IgG hanno pure un andamento analogo, le IgG, che sono appunto gli anticorpi della fase tardiva, le IgG possono, a secondari casi, avere un andamento, come dire, non accentuato, oppure esagerato. Ed è proprio questa situazione, quando le IgG sono particolarmente elevate, i livelli sono particolarmente elevate, a livello circolante, che si può creare la formazione di immunocomplessi, i quali vanno a trombizzare i vasi sanguigni periferici, creando quella che noi conosciamo come la complicanza più grave. E vedete, infatti, come in questa immagine, a seconda della situazione, noi ci troviamo di fronte all'andamento clinico diverso, con una forma lieve, oppure con la polmonite, oppure l'intubazione, oppure le complicanze, fino all'esito. E a seconda dei livelli in cui ci troviamo, il setting di assistenza cambia, per cui per le forme, il soggetto sano ovviamente sta a casa, sta in comunità. In comunità sta anche il soggetto asintomatico oppure con sintomi lievi, e poi con l'aumentare dell'intensità dei sintomi, arriviamo fino al ricovero in reparto, oppure in terapia intensiva, fino alle manovre poi respiratorie più estreme. Per quanto riguarda i bambini, i cinesi sanno, perché adesso noi dobbiamo in pratica arrivare a capire come interpretare i sintomi dei nostri pazienti. I cinesi ci hanno insegnato che i bambini, fortunatamente, se la cavano abbastanza bene. Se prendiamo i casi sospetti, se in questo studio su 2.000 errotti pazienti, il 65% erano casi sospetti, e di questi accertati solo il 34%. Quindi già questo fa capire in che ambito ci muoviamo. In realtà anche in Italia abbiamo casi simili. Se noi andiamo a vedere nell'aprile di quest'anno i dati sulla mortalità, vedete che la mortalità dei bambini è centinaia, anche migliaia di volte, inferiore alla mortalità dell'adulto. Oppure dati a luglio, dati di luglio, su 3.836 bambini, vedete che la malattia è grave solo nel 4-3% dei casi, di Eve nel 32,4%, quindi significa che tutti gli altri sono asintomatici o pausi sintomatici. il 13% si ricovera, e di essi soltanto il 3,5% va in terapia intensiva. E in totale abbiamo avuto 4 decessi. Oppure ancora, dati recentissimi, qualche giorno fa, che sono cumulativi, vedete come la percentuale di bambini interessati di età pediatrica, insomma 0-18 anni, è del 12-6%, e invece la distribuzione è diversa nelle altre fasce. Quindi c'è questa, come dire, questa zona tranquilla per i bambini e anche per quanto riguarda la percentuale di casi asintomatici o pausi sintomatici, vedete che mentre in età pediatrica siamo intorno al 75, anche 80%, poi gradualmente si scende fino al 50% nell'adulto. Quindi anche questa è una conferma. e questa informazione l'abbiamo anche da alcuni report fatti in Cina e a Singapore su 1.065 casi pediatrici. Vedete che i sintomi respiratori sono sempre lievi, tranne che un solo paziente. Quindi parliamo di cifre assolutamente irrilevanti. Ma questo può essere tranquillizzante fino in fondo. Ma possiamo pensare che i bambini siano immuni? Se andiamo a vedere le curve così di casi positivi, vedete che hanno un andamento tale e quale a quello degli adulti. Quindi non è che sono immuni, si ammalano come l'adulto. Però forse sono meno contagiosi, ma neanche questo è vero, perché l'eliminazione virale nel bambino è pressappoco confrontabile con quella dell'adulto. Non ci sono differenze. E tra l'altro non c'è una corrispondenza tra carica virale e sintomi. I casi lievi eliminano, quello che succede è che i casi lievi eliminano il virus più rapidamente. Ma vedete, addirittura l'eliminazione virale è più alta nei casi lievi rispetto ai casi gravi. Però i casi gravi si portano il virus dietro più a lungo rispetto ai casi lievi. Questa è l'unica differenza. i bambini fondamentalmente hanno sintomi lievi nella maggior parte dei casi. E questo ovviamente crea dei problemi perché sono però potenzialmente contagiosi. Sono potenzialmente contagiosi. Effettivamente c'è una grande attenzione verso i soggetti asintomatici non documentati perché possono essere dei soggetti che contagiano. Se noi andiamo a vedere la percentuale di infezioni documentate dovute a trasmissione da soggetti apparentemente sani arriviamo circa al 55%. Quindi il 55% di infezioni documentate è dovuto a eliminazione di virus da parte di soggetti sani. e tra l'altro il soggetto sintomatico può non infettare. Questa è una segnalazione di un bambino positivo che ha frequentato tre scuole senza creare nessun caso di infezione. Però noi siamo in qualche modo chiamati a come dire a effettuare una diagnosi proprio per non correre il rischio di che una diagnosi sbagliata può comportare che sono quelle di rischio di sottoporre i pazienti i bambini insomma a una serie inverosimile di accertamenti di isolamenti di disagi per la famiglia eccetera 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 e quindi c'è un richiamo ad avere un'idea di come arrivare alla diagnosi differenziale il problema però non è semplice intanto i dati di laboratorio ci dicono molto poco perché ovviamente se noi ci troviamo di fronte a queste percentuali praticamente non ci possono aiutare a distinguere le infezioni da coronavirus rispetto ad altre infezioni delle vie respiratorie forse soltanto nei casi più gravi quando abbiamo un aumento degli enzimi muscolari un aumento degli enzimi epatisi un aumento dei parametri della coagulazione ecco solo in questi casi possiamo farci un'idea sulla base dei dati di laboratorio se no non ci sono d'aiuto tra l'altro se noi andiamo a vedere la differenza di percentuali dei sintomi nel bambino rispetto all'adulto effettivamente differenze ci sono la febbre che nell'adulto compare nel 98% dei casi nel bambino solo nel 60% dei casi differenza analoga anche per quanto riguarda la tosse oppure per quanto riguarda la tachipnea oppure per quanto riguarda l'astenia proprio come voi potete capire il fatto di sapere che il bambino presenta meno spesso questi sintomi non ci è d'aiuto per arrivare come dire a una diagnosi differenziale anche se l'adulto alcune differenze ce l'ha ad esempio ha spesso espettorazione ha spesso emotisi ha più spesso cefalea e se poi andiamo a vedere le differenze dei sintomi tra bambini che hanno subito l'infezione della covid e bambini che hanno subito un'infezione influenzale e vedete che sì ci sono delle differenze ci sono delle differenze cioè la percentuale dei bambini che presentano febbre è più alta nei bambini con infezione da coronavirus rispetto a quelli da infezione da influenza e lo stesso per la tosse però in realtà questi sintomi sono da tutte e due le parti per cui come dire dovremmo avere la possibilità di capire se siamo in quest'ambito oppure in quest'altro ambito e in questa casistica nel Massage Assets di 192 casi vengono messi a confronto tutti i sintomi vedete che presenta il SARS-CoV-2 con i sintomi presenti nei soggetti negativi per SARS-CoV-2 e vedete che l'unica differenza riguarda l'anosmia o l'iposmia tutti gli altri non mostrano differenze significative e addirittura anche i disturbi del gusto non presentano differenze significative l'Italia sarebbe avere degli score gli score sono stati messi a disposizione soprattutto per la come dire per la misurazione dei livelli di gravità dei sintomi respiratori score per quanto riguarda la sintomatologia non abbiamo esistono però come dire dei criteri esistono dei criteri che potrebbero aiutarci ad esempio noi potremmo arrivare a definire un caso sospetto per la presenza di due sintomi clinici e di un sintomo e di un parametro epidemiologico tra i parametri epidemiologici ovviamente sono prevalgono quelli che indicano come il soggetto come dire sia a rischio per aver avuto contatti con persone affette oppure per provenire da zone in cui c'è come dire un'epidemia galoppante e tra i sintomi invece clinici c'è questo elenco febbre astenia tosse secca a questi potremmo aggiungere rinorrea sarincite tachipenea diarrea e vomito e quindi la somma se sono presenti due sintomi clinici cioè vengono rispettati due parametri clinici e un parametro epidemiologico questo pone come dire il medico di fronte a un caso sospetto che poi va confermato ovviamente con le tecniche di laboratorio che tutti conosciamo a meno che non ci si trovi di fronte a dei sintomi che sono come dire paradigmatici come queste segnalazioni ad esempio mostrano sono forme con sono dei quadri di di lesioni cutanee di tipo orticarioide o comunque di tipo eritematoso oppure quelle più caratteristiche che sono quelle che ricordano un po' i geloni tipo il lupus pernio ecco la presenza di sintomi di questo tipo è molto significativa e le segnalazioni come vedete ce ne sono state numerose oppure alcune manifestazioni che ricordano il quadro della Kawasaki la segnalazione la prima segnalazione è stata fatta dai colleghi di di Bergamo che furono sorpresi dal fatto che come dire dopo aver visto 19 pazienti in 5 anni con sindrome di Kawasaki ne hanno visti 10 pazienti in 2 mesi e quindi questo ha richiamato l'attenzione sul problema immaginando che l'infezione da SARS-CoV-2 potesse in qualche modo favorire la manifestazione della sindrome di Kawasaki in realtà non è una sindrome di Kawasaki limpida ci sono alcune differenze per quanto riguarda le complicanze cardiologiche infatti è stata nominata come Kawasaki like ecco anche questi quadri sono molto suggestivi e quindi in conclusione quello che posso dirvi è che il solo esame clinico almeno in pediatria non consente di distinguere tra l'infezione da SARS-CoV-2 non complicata è un generico episodio di verosi delle vie aeree gli unici sintomi in grado di orientare la diagnosi sono l'anosmia e la geusia quadri cutanei tipo lupuspernio oppure quadri clinici Kawasaki like e con questo con questo vi ringrazio grazie Francesco per questa relazione che non è assolutamente inutile tutt'altro eppure è molto aggiornata e ha chiarito dei punti e dei passaggi ora io verifico se ci sono alcune domande in arrivo eccoci allora il se dovessimo valutare la percentuale dei sintomi extra respiratori per i bambini possiamo veramente quantificarla sulla base della nostra esperienza italiana aspetta non ho capito la domanda allora i sintomi extra respiratori che sono presenti nei quadri di covid sono presenti in una percentuale ben quantificabile sulla base della nostra esperienza finora in ambito pediatrico non conosco il dato non conosco il dato preciso ovviamente la domanda si riferisce a sintomi come l'astenia oppure la diarrea il vomito eccetera 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 no il quadro beh quei dati che vi ho riportato in realtà non sono dati dell'esperienza italiana vi ho riportato le percentuali derivano da valutazioni fatte in Cina su bambini però fatte in Cina e quindi il dato italiano non ce l'ho non ce l'abbiamo avevo anche altre domande che sono pervenute ma tu hai risposto lungo l'esposizione per esempio quanto quanto è l'infettività della covid e quanto dura il periodo infettivo del bambino se è simile a quello degli adulti ma tu ci hai già dato una risposta se vuoi precisare ulteriormente no no è simile a quello dell'adulto è simile a quello dell'adulto benissimo quindi per ora non ci sono altre domande per cui potremmo lo seguire con le nostre relazioni ricordando a tutti che poi ci sarà proprio uno spazio aperto anche di dibattito e lo scambio potrà essere anche più diretto non siate timidi potete porre anche le domande di persona Francesco ti ringrazio e